O la luce ad ores e compagni di mille avventure non che disavventure del silver volevo dare un'occhiata insieme a voi al menu no 7000 qua ancora niente 3000 3000 per potenziare i cestus direi di si dato che probabilmente ci torneranno utili ok abbiamo visto che ci aspettavo un'orda di fugghi qua pronti a massacrarci i piedi senza ritegno alcuno siamo veramente delle brutte persone ciuccia un fottio di magia l'utilizzo della cosa lì dei cestus però ah eh bene 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 sai che non me lo ricorderò mai vero le combo in fase d'attacco non sono affarmio non non ho la mente così elasticamente pronta a tutto quanto R1 sì eh ho capito ma che gli posso fa non possiamo interagire possiamo solo vedere che gli abbiamo spaccafottuto la faccia benissimo allora immersione 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 ah santo cielo che voi ci crediate no sto schiacciando tutti i tasti ok ah c'era c'era roba qua sul fondo spallaccio di ercode un prezioso vero di ercode completa il gioco per utilizzare questo oggetto ah ok funziona esattamente come il discorso dello scudo allora di di Erasmus la il tizio Cinciallegro insomma Eos Elio Elio era Elio era Elio sono sicuro che era Elio di cui avevamo lo scudo ma non sapevamo che farcene il discorso è sempre quello finisce il gioco ok possiamo uscire da sto gabinetto grazie d'onde siamo giunti d'onde siamo giunti amici miei e compagni di mille viaggi in una stanza con un baule interessante e un baule ancora più interessante oh sì questo ci piace il Minotauro ci dava ok più diciamo di questa chiamiamola stamina che è quella che ci permette di tirare frecce e far volare madonna stavo dicendo grazie sala di Poseidone ma Poseidone non era morto Pandorina ciao ancora bene non era R2 da schiacciare per far sì che io percuotesse il terreno con i cestus in maniera fighissima eccetera 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 no perché vi informo che non funziona finita la magia non basta quel nespolo di magia che ho là in fondo non basta per nulla benissimo ne sono entusiasta entusiasta veramente ecco sarebbe figo se anche la magia si ricaricasse un filino più velocemente o magari con gli attacchi o che ne so io con le morti altrui con dei fantastici rubinetti di magia che dispensano gioia da tutti i puoi intanto vabbè siamo talmente iulenti che chi se ne frega tu sei un oggetto in onice posso spaccafotterti perché hai questo strano colorito interessante prenderai vita mi spaccherai le natiche c'è qualcosa che non mi torna allora di qui non posso andare ah ok ecco cosa non mi tornava che fico abbiamo il tanto agognato punto di salvataggio che non trovavamo in precedenza allora questa mi sa che esatto merdacchia pandora è là dietro e noi siamo bloccati si liberami tu nonna ti libera qui è tutto in divenire figlia mia salve eh va bene non ti aiuteremo via qua via qua via qua via qua vabbè no prima di là prima di qua questo assolutamente questo io come il dubbio di essermi perso in giro un qualsivoglia occhio della gorgone perché abbiamo sempre quello da buscare in ritardo e non è mai troppo una gioia no anche questo intanto non ha preso vita è una sorta di shortcut questo resta aperto no però da qui possiamo almeno uscire ok la cosa c'è già più chiara io e lei ci vediamo dopo signorina qua ci sono ancora i tunnel carpali per viaggiare nel mondo e nello spazio per me queste statue poi prendono vita molto presto lo sappiamo che andrà a finire così non ho per niente le idee chiare io non mi posso aggrappare a niente qui giusto ok se si salta si muore quindi non posso interagire con queste statue qui dovrà comparire un cancello quindi non abbiamo ancora fatto una qualsivoglia ma scusa sono sono scemo mi dimentico di aver le ali eh vabbè ok vorrei sapere tanto chi li ha progettati questi luoghi di perdizione eh infatti avevo avevo ragione io avevo ragione io yeee yeee adesso vi picchio con tanta cattiveria lo so sono una brutta persona mi stanno piacendo un casino questi bracciali sembra di aver comprato il bimbi però sapete che vi dico che io mi metto già qua che non si può mai sapere tanto ora che arriva uno di questi cagnetti ok intanto cominciamo a portarci a casa oh aspetta afferrare e calciare ed è quasi gol ed è quasi gol sì ma ok io ci scherzavo io ci ridevo io ci scherzavo ma è fighissima sta cosa gesù vai ok ci siamo manca solo una cosa dalla parte di là se non sbaglio no arrivo ragazzuoli e sapete che vi dico ciao potete andare a pigliarvela nel secchio allegramente che non torno a giocare con voi oh 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 salve beh chiudi vabbè la storia sarebbe lunga te si magnano i cani lì eh non vorrei dire però mia amata invoco il tuo perdono per avermi fatto subire la mia rabbia non sei tu che mi hai fatto addirare così ma mio fratello e il suo rifiuto di ricorrere al grande potere che nasconde nel labirinto una tempesta si avvicina e Zeus lascia l'Olimpo senza un porto sicuro sono il conforto che trovo tra le sue braccia mi dona il riposo il tuo signore Poseidone ascolta ragazza hai rotto la minchia no più che altro perché aiutami no non aiutarmi aiutami no non aiutarmi ho le zucche fuori eccetera 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 ma basta oh salve salve yeee e vai e vai questo ci piace al quanto assai un prezioso vero conchiglia di Poseidone ok perfetto ce la metteremo sulla testa e sarà una figata spaziale salve ragazzuoli quando volete lo zio Kratos c'è e vi da tante tante botte credo di avermi nato anche lei può essere ancora prima non bastavano mai ecco cani stupidi all together di nuovo dai su su ammazza oh manco manco gli stracci su sguatera vai in cucina e preparami un toast che ci sarà qua sotto ad aspettarci altri io lo sapevo che prima o poi voi arrivavate bene potrei tenerli lì per ore vediamo se ok ne ho abbastanza già di avervi divisi fico quanto cazzarola dura lo scontro con uno di voi no te lo chiedo perché poi ce n'è un altro ok lo so che è la solita scorciatoia come quella che usavo in dark souls ma se abbiamo la possibilità di usare l'arceria perché privarcene la 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 ma ti prego non uccidermi con chi ce l'hai c'è qualcuno che ti sta importunando o graziosa fanciulla con le puccette di fuori aio guarda ti cercherò di farti del male nella maniera più graziosa possibile ok pigliati questo pigliati questo e pure questo nel porto ombrelli ah 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 quale gioia che mi dà ti ho appena salvato troglodoite dai dai spaccati kratos no cosa allora salvami e se ti salvo ti rompi le palle se non ti salvo mi dici di salvarti che mamma mia ci sarà mai nulla che ti va bene ma chi ti uccide aspetta che facciamo la solita bella cosina anzi facciamo una bella cosa visto che il video precedente è stato lunghissimo visto che io prima o poi dovrò anche andare in pausa a gabinetto noi ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video dove vedremo cosa ce ne faremo di questa fanciulla lo so che siete curiosi morbosi e zozzori vi vedo tutti tutti uno per uno soprattutto tu tu si proprio tu alla prossima ciao ciao